Questa settimana a Vespere parliamo di disagio, che è quello che scaturisce sicuramente dai due anni da cui siamo reduci, che sono i due anni della pandemia del Covid-19. Disagio che ovviamente ha riguardato tutti noi, ma oggi noi focalizzeremo l'attenzione soprattutto sui ragazzi, sui nostri ragazzi, sui nostri figli, quali conseguenze subiranno anche in prospettiva da quello che è successo. A tutto questo si aggiunga anche l'attuale tensione internazionale, quella legata all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che è un argomento che è tuttora al centro dell'attenzione e che sta generando ulteriori ansie e paure in tutti noi. Però, ripeto, oggi noi parleremo soprattutto dei ragazzi, delle giovani generazioni, partendo anche dalla fascia preadolescenziale, addirittura dai bambini. Cercheremo di capire quali sono le conseguenze, cercheremo di capire verso quale direzione andremo adesso, perché come in tutte le cose della storia c'è un prima e un dopo. E quindi dobbiamo considerare qual era la realtà prima e quale è diventata adesso, dopo le grandi ansie da cui siamo reduci, come detto, quelle legate alla diffusione del virus, che peraltro ancora non si è arrestata. Adesso la nostra attenzione è rivolta verso altre situazioni, dobbiamo anche pur continuare a vivere, e però ci siamo quasi dimenticati che il Covid non è ancora sconfitto. Voglio ringraziare e salutare le nostre ospiti che questa settimana converseranno con me su questo delicatissimo argomento. La dottoressa Maria Grazia Bonsignore, che è una psicoterapeuta e che dunque ha un polso piuttosto significativo di quello che è il disagio, di come è aumentato anche dal suo osservatorio privilegiato. Così come osservatori privilegiati sono quelli di due insegnanti impegnati in settori diversi della scuola pubblica. Ve li presento. Cristina Venezia, docente presso l'Istituto Comprensivo Mariano Rossi di Sciacca, e presento anche Claudia Brunetta, che peraltro, fatemi utilizzare una parentesi affettuosa, è stata una nostra collaboratrice negli anni passati e quindi è un piacere ritrovarla. Claudia Brunetta, che invece è docente presso l'Istituto Superiore Tommaso Fazzello, in particolare lei è impegnata al liceo classico. Grazie a tutti. Vorrei cominciare con la dottoressa Bonsignore, precedendo però la domanda che le farò, da un annuncio che faccio. Tra poco ascolteremo un contributo che considero molto importante, che abbiamo chiesto al professor Francesco Pira, che è un giornalista, sociologo, associato di sociologia e delegato del Rettore alla Comunicazione dell'Università di Messina. Proprio su questo argomento ci darà qualche spunto ulteriore di riflessione rispetto a quelli che ho appena annunciato. Dottoressa Bonsignore, voglio cominciare proprio chiedendole, prima della pandemia e adesso, il suo lavoro di psicoterapeuta in che modo è cambiato, anche rispetto alla platea di persone che chiedono il suo aiuto. Intanto grazie a Massimo e a RMK e buonasera a tutti. Diciamo che la platea è cambiata moltissimo, intanto è aumentata, come c'è essi, le persone che chiedono di fare una consulenza psicologica e un trattamento psicologico sono notevolmente aumentate, già dal maggio 2020, devo dire. Io dico questo, che tra le questioni diverse che la pandemia ci sta lasciando abbiamo e adesso uniamoci anche a questo aspetto delle tensioni in Ucraina, tra le questioni più importanti c'è la condizione attuale e futura delle giovani generazioni e questo lo dico in premessa perché la pandemia che ci sta lasciando, ma anche questo particolare periodo complesso, complicato, è un periodo di forte stress e ovviamente con l'aumento dello stress aumenta il disagio. Il disagio aumenta soprattutto nei giovani, ma non solo, devo dire anche nelle popolazioni più fragili che sono gli anziani, ci metto anche le donne e comunque poi questo ovviamente ha un riverbero sulle famiglie. Nell'ultimo periodo molto spesso noi diciamo con i colleghi ci confrontiamo abbiamo avuto anche dei veri e propri dialoghi individuali e ci rendiamo conto che c'è tantissima richiesta per disturbi d'ansia, disturbi d'attacchi di panico e disturbi del sonno anche. Sì, che ovviamente sono tutti, che sono diciamo richiesti da parte della popolazione in generale senza limiti di età, ma che ci accorgiamo che sono molto però più frequenti soprattutto nella fascia giovanile. Direi non tanto nei bambini, ma soprattutto nella fascia dei ragazzi e le scuole secondarie superiori, di secondo grado, cioè sostanzialmente le scuole superiori, e nei giovani adulti o diciamo negli universitari. È incredibile la frequenza con cui si chiedono interventi per questo tipo di disturbi, e anche noi diciamo siamo abbastanza sconvolti da queste continue richieste, come se ci fosse una vera e propria pandemia emotiva. E di fatto c'è, perché se noi andiamo a leggere un po' i dati, gli ultimi dati, diciamo che già l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2020 ha dichiarato che la depressione in generale è stata la seconda patologia dopo le malattie cardiovascolari e prevede che entro il 2030 la depressione sarà la prima patologia, cioè prima del cancro, prima delle malattie, delle morbo di Alzheimer, eccetera. Questo che cosa significa? Che c'è una crisi della salute mentale su cui occorrerebbe lavorare e infatti l'OMS Europa insieme al governo greco hanno fatto un summit ad Atene proprio recentemente perché nel piano nazionale di recupero la Grecia ha già inserito la salute mentale come priorità per bambini e adolescenti e chiaramente c'è l'intervento, comunque si auspica un intervento in tutti i paesi europei affinché vengano rinforzate le aree della salute mentale e affinché la salute mentale diventi un servizio di base che viene offerto gratuitamente. La Grecia fa da apripista in questa situazione? La Grecia già lo fa, tant'è vero che la Grecia ha già un numero considerevole di psichiatri e psicologi e noi dovremmo attivarci in tal senso. Vero è che è stato inserito il bonus psicologo, però devo anche dire che ancora i decreti attuativi non sono stati preparati, per cui ci sono tantissime persone che aspettano che questo bonus venga è elargito perché comunque ancora oggi purtroppo, bisogna dirlo, la psicoterapia viene offerta attenzione dai servizi pubblici ma non è assolutamente sufficiente, per cui chi vuole fare un percorso psicoterapeutico deve ricorrere a noi privati e ovviamente tutto questo ha un costo che non tutti possono permettersi o comunque un ragazzo che possa anche permetterlo, però a volte magari il genitore non ne vede l'utilità o non ne comprende l'utilità. Per cui diciamo che c'è una situazione abbastanza difficile. Noi stiamo lavorando veramente tanto tutti quanti proprio perché c'è stato questo incremento e tra l'altro anche io per esempio mi è arrivata un articolo che leggevo proprio qualche giorno fa che a fine gennaio è stato fatto un congresso nazionale virtuale da parte della SINF che praticamente è una società italiana di neurofarmacologia e loro hanno presentato tutta una serie di ricerche che hanno fatto su 80.000 giovani e c'è un adolescente su 5 che soffre di disurvidanzia e un adolescente su 4 che soffre di sintomi di depressione. Questi secondo me sono dei dati che occorrerebbero... Sono dei campanelli d'allarme. Sono dati che corrispondono a campanelli d'allarme. Assolutamente, allarme occorrerebbe intercettarli perché non sempre il ragazzo, il bambino sa chiedere il giusto aiuto perché un adulto riesce a comprendere che ha dei sintomi, quindi sa chiedere aiuto. Non tutti i bambini, non tutti gli adolescenti sanno chiedere il giusto aiuto e anche le famiglie perché molto spesso una famiglia, cioè ci sono dei genitori che magari non sanno che cosa devono fare, come devono attivarsi, per cui è importante che i servizi si attivino in tal senso. Parleremo tra poco anche di quali possono essere le prospettive. voglio chiedere alla dottoressa Venezia cosa pensa di quello che è successo e quali sono stati i cambiamenti che lei ha avvertito nei confronti dei bambini, che sono il suo punto di riferimento professionale, posso dire. Allora intanto buonasera a tutti, grazie Massimo di avermi invitata. È un argomento che sento fortemente perché giustamente da insegnante l'impatto della pandemia è stato enorme. Noi ci siamo ritrovati improvvisamente dal banco di scuola, da un momento all'altro ricordo era un mercoledì, abbiamo salutato gli alunni dicendo ci vediamo domani e poi improvvisamente proprio il pomeriggio poi è scoppiato, la scuola si è chiusa dall'oggi al domani, cosa che non era mai avvenuta. Quindi neanche noi da ragazzini abbiamo mai vissuto nulla del genere e neanche immaginavamo potesse verificarsi un evento di questo tipo. Quindi che un virus sconvolgesse dall'oggi al domani la nostra quotidianità è stato devastante per tutti. Ci siamo appunto ritrovati a casa ma per fortuna, dico la tecnologia ci è venuta in soccorso, per fortuna nel 2020 quando è avvenuto già c'erano le varie piattaforme, c'era G Suite di Google che già aveva Classroom, avevamo già Google Meet quindi potevamo fare già le video lezioni, c'era WhatsApp che è stato diciamo il nostro primo collegamento poi con con gli alunni. Il primo diciamo impatto è stato di spaisare, cioè ci siamo spaisati ecco, non sapevamo come come doverci comportare, non sapevamo quanto sarebbe durato, non sapevamo come fare scuola, come fare didattica. Però devo dire che siamo stati, io allora avevo una quinta quindi erano già grandetti, però devo essere sincera che la nostra capacità di insegnanti di anche adattarci alle situazioni insieme a loro e la collaborazione enorme delle famiglie perché nella fascia d'età della scuola primaria ma anche della scuola secondaria, la presenza della famiglia, la collaborazione con la famiglia è stata fondamentale. All'inizio ci siamo, come dire, è stata una sperimentazione perché la didattica a distanza non c'era mai stata. Ma i bambini come hanno preso questo? Allora, i bambini... Perché se, come dice lei correttamente, siamo rimasti tutti spaisati ovviamente, voi nel vostro settore, altri negli altri, i bambini come hanno reagito? Allora, i bambini secondo me, da quello che io ho percepito anche come madre, esattamente, all'inizio l'hanno preso come una sorta di vacanza, poi subito dopo ci sono state le vacanze pasquali, quindi è stata la fine della scuola quella che un pochino li ha fatti più soffrire, soprattutto per chi cambiava come la quinta elementare, poi proprio il ciclo di scuola e doveva salutarsi. Questa è stata una mancanza, la mancanza del saluto, della fine, diciamo, di tutte le attività con cui noi concludiamo, l'anno scolastico, le recite, le feste, tutte le attività ecco, per noi più gioiose, che sono quelle che poi ci portano alle vacanze estive e per loro al passaggio alla scuola secondaria. Questo momento non c'è stato, infatti resta sempre quando ci sentiamo con gli alunni un ricordo mancato, un qualcosa che manca. Però noi ci siamo subito attivati, quindi già con le video lezioni abbiamo sperimentato, abbiamo tenuto i contatti, abbiamo lavorato H24 insieme a loro, perché eravamo anche il loro punto di riferimento, un continuo contatto maestra, giusto professoressa, era anche un legame con la quotidianità che non c'era più, poi chiusi dentro, insomma è stato un po' un momento molto particolare. Ecco, in che modo, secondo il suo punto di vista, questi ragazzi rimangono segnati da quello che è successo? Rimangono segnati nella mancanza di questi ricordi, però io almeno per la fascia di età che mi riguarda sono molto ottimista, perché i bambini hanno una grande capacità di adattamento e di anche resilienza, io li vedo ancora allegri, vivaci, certo manca la relazione, mancano tutti quei momenti, i momenti di socialità che comunque loro cercano inevitabilmente, siamo noi tante volte un po' a frenarli perché per la questione del distanziamento e delle mascherine, insomma cerchiamo, ma loro ce l'hanno nell'anima questa voglia di stare insieme, di giocare. Però nella fascia d'età dei bambini soprattutto sono quelli che quando tu gli dici che ci sono delle regole da rispettare, è meno faticoso degli altri target. All'inizio dicevo alle colleghe, quando iniziate siamo ritornati a scuola e quindi con tutte le varie regole del distanziamento delle mascherine, mi sentivo un po' in Giappone, in Cina, quando si vedono quelle file ordinate a cui noi non eravamo abituati e tutti i bambini così ordinati in questa maniera, le hanno accettate, le hanno rispettate pienamente, non abbiamo sofferto da questo punto di vista nelle farle rispettare. E poi per ritornare un po' alla domanda di poco fa e anche a quello che diceva la dottoressa Bonsignore, la fascia probabilmente più penalizzata è quella degli adolescenti, mentre i bambini nella scuola primaria hanno appunto questa... Hanno il tempo anche di... Sì, hanno e hanno anche una sorta di protezione probabilmente familiare che li fa ancora, ecco, avere quella gioia di vivere, quella voglia di stare insieme e quella capacità anche di adattarsi, certo, resterà sicuramente nei loro ricordi per sempre. Poi ci sono i gruppi dei genitori, soprattutto per i bambini più piccoli, che sono... Ah, è nato, è nato in quel momento, i gruppi Whatsapp... Poco ci vuole che escano i fuochi d'artificio, le telefoni. Però sono stati, sì, no, no, devo essere sincera, questo a me non è successo, ringraziando Dio, però sono stati fondamentali, perché tante volte davamo le comunicazioni anche alle 10 di sera. Non c'era altro mezzo, se non un Whatsapp, per contattare in maniera immediata i genitori. Allora, vediamo qual è l'opinione della professoressa Brunetta rispetto a questo passaggio. Voi siete le seconde famiglie a scuola, no? La seconda mamma nel caso dell'insegnante donna, il secondo papà nel caso dell'insegnante... Cioè, voi avvertite subito i cambiamenti, probabilmente talvolta prima anche degli stessi familiari. Lei personalmente le è capitato di avvertire dei disagi che si stavano maturando tra qualche suo alunno? Tanto buonasera, Massimo, e grazie di questo invito. Io applaudo a queste iniziative perché sentiamo veramente l'esigenza del dialogo e del confronto. E allora, sicuramente il mio osservatorio, da quello che capisco, riguarda proprio le fasce d'età che sono maggiormente state segnate, come dicevi tu, da questa situazione. Perché i miei alunni oscillano tra i 14 e i 19 anni. Poi io sono mamma di una ragazzina che è in fase preadolescenziale e poi ho due figli universitari. Diciamo che sono le categorie, insomma, che più forse hanno risentito di questa situazione. Io vorrei poter dire che rispetto a prima i ragazzi hanno ritrovato quell'allegria, quella spensieratezza, quello spirito di aggregazione che era connaturato in loro. Purtroppo invece oggi mi trovo a dover sottolineare quella differenza tra un prima e forse neanche un dopo ancora. Perché noi abbiamo detto che siamo reduci da due anni di pandemia, come se questa situazione oramai fosse superata. Purtroppo non lo è. Purtroppo in questa fase proprio ci troviamo invece di fronte a un'emergenza sanitaria di contagi che vede la scuola molto coinvolta, più forse anche della fase critica del lockdown perché eravamo tutti a casa. In questo momento le classi sono interessate da tanti casi di covid perché tante famiglie sono interessate. E quindi i ragazzi si trovano anche dopo due anni di privazioni a fare i conti con una privazione che in fondo poi è servita a poco perché il covid è arrivato. Ora stanno sperimentando l'isolamento forzato dovuto alla positività. Non dobbiamo trascurare che comunque il covid l'indebolisce dal punto di vista psicologico ma anche fisico. Ci troviamo a dover fare i conti con una fase post contagio, il cosiddetto long covid. Le conseguenze rimangono. Sì, che li vede assolutamente indeboliti, in preda all'astenia, alla mancanza di concentrazione, alla sonnolenza. Loro non possono spegnere l'interruttore della malattia e tornare quelli che erano. Io credo che, proprio stamattina lo dicevo ai miei alunni, così scherzando perché poi cerchiamo veramente di sdrammatizzare, la parola che ricorre più spesso in classe sia ansia. Stamattina ho detto, vediamo chi è stamattina che ha detto per prima la parola ansia. E io ho trovato ragazzi che invece conoscevo con grande voglia di vivere, con grande spirito d'allegria e di socializzazione. Li ho trovati molto spenti quando siamo tornati in classe. Quindi la domanda che le ho fatto le ha avvertiti sì, i cambiamenti. Sì, assolutamente. Prima la dottoressa parlava dell'aumento della richiesta di pazienti. Questo noi lo avvertiamo perché la scuola offre il servizio della psicologa all'interno delle nostre aule. Tanti ragazzi, ma anche tante famiglie che prima dimostravano diffidenza nei confronti della figura dello psicologo, adesso ci chiedono aiuto. E io mi chiedo cosa abbiamo anche sbagliato noi adulti nella fase in cui abbiamo forse preteso troppo da loro. Abbiamo preteso che stravolgessero le loro vite e forse siamo stati anche un po' troppo severi, troppo rigorosi nei loro confronti. Abbiamo preteso troppo, li abbiamo tante volte stigmatizzati, tante volte li abbiamo demonizzati. Non ci siamo sforzati, lo dico anche come mamma, non ci siamo sforzati di adoperarci con la giusta forma di dialogo nei loro confronti. Io se tornassi indietro cambierei alcuni dei miei atteggiamenti perché con alcuni siamo stati intransigenti e loro si sono sentiti pregiudicati, più che giudicati, e con loro abbiamo forse interrotto ogni tipo di dialogo perché non ci hanno ascoltato più. Si sentivano giudicati e quindi non si sono sforzati neanche di farsi capire. Altri sono stati più equilibristi, si sono barcamenati tra il desiderio di lasciarsi andare a un briciolo di normalità e il giudizio, il dito puntato, soprattutto dell'adulto, appunto che è stato severo e rigoroso nei loro confronti. La cosa peggiore che è successa è che alcuni invece li abbiamo ridotti all'obbedienza. Li abbiamo costretti a rinunciare a tutto e oggi cerchiamo di correre ai ripari perché questi erano quelli più fragili, quelli che io oggi dico sono veramente ragazzi di cristallo a cui dobbiamo parlare con una sensibilità, con una delicatezza, che sta tutta a noi docenti poi nelle classi perché noi non abbiamo studiato per poter intraprendere iniziative, anche noi abbiamo bisogno del sostegno di una figura professionale di riferimento. E questi sono i ragazzi che si sono isolati, che hanno obbedito a noi adulti, hanno trovato la dimensione della casa, della cameretta, magari ci hanno soddisfatto, hanno rispettato pienamente le regole, sono stati bravi. Però si sono annullati. E si sono annullati e oggi quindi stiamo cercando di correre ai ripari per cercare di tirarli fuori da questo isolamento, di riprendere il filo da dove l'avevamo lasciato. Attenzione, io non voglio essere fraintesa all'educazione, al rispetto delle regole, al senso di responsabilità individuale e collettiva. All'inizio si è esagerato in effetti, se ci ricordiamo sulla pandemia, si è un po' esagerato col puntare il dito, ragazzi non avete senso di responsabilità, vi riunite, vi assembrate. Poi però questo è diventato un limite. E sì, però oggi sai cosa è successo? Che l'aggregazione tra ragazzi, che è la cosa più splendida che ci possa essere tra di loro, oggi questo termine è stato sostituito col terribile termine di assembramento, con tutta la connotazione negativa che questo può comportare. Sicuramente, questo è successo, sì. E quindi, tante volte, in classe, o possiamo i libri e parliamo, perché diventa indispensabile parlare, perché c'è proprio quello stato di torpore quasi, ragazzi che erano curiosi, stimolanti, che confessano di non sentirsi più protagonisti del mondo della scuola, perché sono ridotti a venire, fare le verifiche, ascoltare la lezione, gli sono stati toccati tutti i momenti in cui potevano stare assieme, oppure dalla pagina della letteratura, tirare fuori l'argomento per cercare di parlare di loro, dell'attualità, ora c'è la guerra. Certo. Questo pensiero incombe, ma i ragazzi non ce la fanno, non sono pronti. Abbiamo preteso troppo, Cristina, abbiamo preteso troppo dei ragazzi, secondo lei? Io ho un punto di vista diverso, una fascia d'età differente. Come madre, posso dire che dipende molto anche dal carattere dei ragazzi, dalla loro capacità di adattamento, probabilmente anche dalla serenità che diamo noi, perché, come diceva poco fa la dottoressa, l'impatto è stato anche sulle famiglie, sulle mamme, sui nonni, il fatto di stare chiusi dentro, quindi quando in famiglia si crea poi quel circolo vizioso, giustamente ne risentono anche i bambini, anche i ragazzi, quindi dipende anche da quello che hanno a casa. Come scuola noi abbiamo cercato di dare serenità, tranquillità, di dare un punto fermo, un punto di sicurezza. E penso che ci siamo riusciti, abbiamo utilizzato tutti i mezzi possibili per stare vicino ai bambini e alle famiglie. Non ci siamo risparmiati. Io penso di aver lavorato veramente, come tutte le mie colleghe, dalla mattina alla sera, notte e giorno, e più di questo noi non potevamo fare. Vediamo cosa pensa la dottoressa Bonsignore. Il quadro che ci disegna la professoressa Brunetta mi sembra molto chiaro. Allora, io penso... Lei mi pare che possa dire se le cose dal suo osservatore sono andate così. Io penso proprio su questo, che io penso che la crisi che c'è stata, la crisi pandemica, ora vabbè c'è anche la tensione in Ucraina, che ovviamente ancora aggiunge stress, ma credo che la crisi pandemica abbia solo slatentizzato, comunque abbia agito, come dire, detonatore di qualcosa che c'era prima. Di un disagio che già era pregresso. Sì, perché il problema degli adolescenti da tempo si notava, tra l'altro gli adolescenti come tale, l'adolescenza è un'età di fragilità. Molti dicono agli adolescenti, si sentono onnipotenti. Io credo che quelli siano poi i bambini, no? Perché sono più sicuri, stanno a casa, hanno i genitori, non pensano alla morte. Mentre l'adolescente già riesce a comprendere che c'è la morte, che ci sono le fragilità, comincia ad avere l'ansia del futuro. Per i bambini e per gli adolescenti, in particolare per gli adolescenti, il tempo presente e il futuro sono importanti. Non è come per gli adulti, ma per noi adulti il passato ha una importanza fondamentale. Mentre per loro è il presente e il futuro. E se noi pensiamo che il presente è quello che è, lo vediamo, incerto, complesso, difficile. Il futuro, dico, pensiamo ai ragazzi oggi, adolescenti oggi. La deforestazione, penso che non siano stati loro a causarla. La plastificazione dei mari, idem. Il problema della meritocrazia. Io lo avverto moltissimo quando parlo con i ragazzi e con gli universitari. Loro non credono nel merito, ma non perché non lo credono loro, perché questo è il risultato di ciò che gli adulti... Anche il sistema sociopolitico, diciamo, ha un'incidenza. Assolutamente. Allora, l'adolescente è colui che si forma soprattutto stando a contatto in maniera costante e dialettica. Non dobbiamo dimenticarci che dovrebbe essere in maniera dialettica con l'ambiente circostante. Quando parliamo di ambiente, noi parliamo del microambiente, che sarebbe la famiglia, gli amici, la scuola. Ma poi c'è il macroambiente, quindi i movimenti sociali, il clima, quello che si respira. E come, diciamo, sono i rapporti del sistema. E se noi pensiamo che... Cioè, io ci parlo, non dico quotidianamente, ma quasi, con i ragazzi, e loro hanno un disagio profondo. Il disagio profondo non nasce perché c'è una pandemia. La pandemia, ecco, la pandemia ovviamente mette a dura prova, è come se una casa non è stabile, se arriva a una scossa anche lieve di terremoto crolla. Mentre se la casa è molto stabile, cioè, la scossa di terremoto non crea tante. I condizionamenti sono più complicati. Non hanno una base sicura. La posso fermare un attimo qui. Perché vorrei introdurre, chiedo al mio regista di preparare l'intervento del professor Pira. Perché il professor Pira ci fa un po' una sorta di, come si può dire, di sinossi dell'argomento che noi abbiamo preparato per questa trasmissione. Ed è interessante la riflessione che lui ci propone. Perché parte proprio dagli aspetti legati alla pandemia, alle tensioni internazionali di questi ultimi giorni, diciamo, settimane adesso. Il professor Pira, lo ascoltiamo, associato al ricordo di sociologia, delegato del rettore alla comunicazione dell'Università di Messina. E poi ritorniamo per commentare. In queste ore stiamo vivendo una tragedia che mai pensavamo di vivere 70 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una guerra che sembra lontana ma sembra vicina. Una guerra che pagheremo caro, come tutti gli analisti ci stanno spiegando. Ma sicuramente bambini e adolescenti e anziani la stanno vivendo con maggiore sofferenza. Non dimentichiamoci che veniamo fuori da due anni terribili di pandemia, in cui siamo stati costretti a stare chiusi in casa, a isolarci dagli altri, a vivere con la mascherina. Di recente sono stato in una scuola superiore e ragazzi adolescenti mi hanno detto «Prof, la cosa che noi vorremmo in questo momento è toglierci la mascherina e ritrovare i nostri sorrisi». E proprio quando speravamo che dopo le tre dosi di vaccino i sorrisi potessero tornare ad esplodere, «Bene, ecco che è arrivata la guerra, una guerra prepotente, una guerra che nessuno di noi pensava». E allora in questi giorni ho avuto modo di chiedere anche ai ragazzi e alle superiori che abbiamo incontrato, che ho incontrato anche in varie parti della Sicilia, qual era il loro stato d'animo, cosa temevano di più. E hanno paura del presente e paura del futuro. Temono che questa guerra li possa comunque penalizzare, penalizzare togliendo loro le speranze, togliendo loro la possibilità di poter studiare come vorrebbero, di poter avere quel mondo globale che tutti ci avevano promesso, un mondo in cui noi potevamo muoverci, andare in Russia, andare in Ucraina, a far conoscere ragazzi russi ed ucraini che sicuramente potevano arrivare nel nostro paese o noi potevamo andare nei loro perché non c'era una guerra, perché c'era la pace. E allora i ragazzi oggi, le ragazze sentono questo grande desiderio di pace, hanno voglia di non vivere in una società dove un giorno ti minaccia il virus, un altro giorno ti minaccia l'idea di una guerra nucleare, di una terza guerra mondiale che andrebbe a radere al suolo quasi tutto. I nostri ragazzi sono ragazzi riflessivi, sono ragazzi che vivono il rapporto con le tecnologie ormai quasi in simbiosi, ma che sanno perfettamente che quello che sta accadendo è anche viziato da qualcosa che non immaginavano, il virus della disinformazione, il fatto che loro che non guardano i telegiornali, che non leggono i giornali, che sono fissi su Netflix, non riescono a sapere quale può essere la verità perché nel mercato dell'informazione, tra le notizie che loro selezionano attraverso le parole chiave e che arrivano con la messaggeria veloce o con i social network, non sanno se sono fake news o se sono notizie vere, perché sono scritte talmente bene le notizie false che loro pensano che possano essere verosimili. Questa guerra ci ha insegnato che c'è una guerra dentro la guerra, quella della comunicazione di Putin completamente diversa dalla comunicazione di Zelensky. È la prima guerra dove i social network hanno un ruolo determinante. È una guerra che ci sta facendo preoccupare e sta creando delle ansie. In particolare bambini e ragazzi, così come gli anziani come vi dicevo prima, hanno una preoccupazione costante, manifestano insonnia, cercano di capire che domani ci aspetta, che domani ci può essere. Quindi il nostro dovere da adulti o da generazione di mezzo deve essere quello di spendere ogni energia, di parlare con loro, di tranquillizzarli, di far capire che nessuno, nessuno, nemmeno i signori della guerra, nemmeno i grandi potentati economici, nemmeno chi ci vuole privare della nostra libertà spingendoci in un metaverso dove la privacy viene messa in discussione, può spezzare i loro sogni. Loro hanno bisogno di sognare e hanno bisogno di sapere che esiste un domani che deve essere necessariamente migliore di quello della pandemia e migliore dei giorni della guerra. E allora auguriamoci un futuro di pace, ma soprattutto auguriamoci un futuro con meno virus di tutti i tipi, sia della disinformazione sia di Covid-19. Dottoressa Ponsignore, gli adulti, è interessante la sollecitazione del professore Pira, ma gli adulti siamo in grado di tranquillizzare i nostri ragazzi? È una bella domanda. Allora, intanto bisogna capire cosa si intende per tranquillizzare, perché in generale l'urro dell'adulto deve essere quello della persona che si prende cura. Il genitore, quindi, si prende cura del proprio figlio, dovrebbe anche aiutarlo a regolare le emozioni. È fondamentale questo. Ma molto spesso, diciamo, la regolazione delle emozioni è fallimentare. E il processo di regolazione delle emozioni è un processo di corregolazione, cioè avviene attraverso un'altra persona, in particolare appunto il caregiver, il genitore. Spesso però di fronte a situazioni così stressanti è facile che si vada in tilt, per cui l'adolescente in particolare poi vive un disagio e lo vive anche attraverso il corpo, soprattutto perché il corpo è fondamentale per l'adolescente. O aggredisce il proprio corpo a volte, se per esempio prova molta rabbia. Ecco, per esempio, adesso in questo periodo si prova molta rabbia. Corpire il corpo significa, per esempio, soffrire di disturbi alimentari o tagliarsi, perché per esempio anche l'autolesionismo è molto sentito. Isolarsi, come diceva la professoressa Bunetta, e l'autoisolamento è anche un'altra forma. Ma può essere anche rivolta all'esterno, verso le cose, le persone, gli animali. Anche quello, oggi abbiamo sentito una notizia, appunto, che ci sono stati questi atti vandalici, che poi ho riflettuto sul fatto che siano stati fatti proprio nella zona più centrale. Questo per me ha un significato. Puntomeno io la prima cosa che ho pensato è stata questa, ma proprio in piazza, proprio sulla statua. Perché? Appunto perché, come dire, io in qualche modo voglio essere protagonista e voglio che qualcuno mi veda. Anche perché noi siamo in una società in cui il successo significa farsi vedere, il successo significa apparire. Quindi, se ci sono delle fasce, magari anche di disagio più profondo, che non riescono in nessun modo a tirare fuori la loro voce ad essere protagonisti, e allora è più facile essere protagonisti in questo modo. Quindi è l'espressione di un disagio, anche l'atto vandalico. Gli atti vandalici sono sempre l'espressione di un disagio profondo. Laddove c'è un atto di aggressività, c'è un disagio profondo. Questa è una regola. Sicuramente l'aggressività lì è un linguaggio, è una disregolazione emotiva costante e continua, ma farsi del male è anche una forma di aggressività, certo, rivolta verso se stessa. Quindi questo, secondo me, noi ne sentiremo sempre di più. Purtroppo è una visione negativa. Io cerco sempre di non avere la visione pessimista, però comunque ci sono delle cose, dei segnali molto chiari, molto evidenti. Sono tutti sintomi, sentinella di qualcosa che potrà diventare più grande se non arginiamo, se non corriamo in ripari. E questo lo dobbiamo fare attraverso l'atteggiamento, ovviamente, delle politiche, degli adulti. Ecco, è un argomento importante questo. Claudia, volevo capire, volevo conoscere la tua, tua, sua, sì, lo so, l'opinione di Claudia, siamo sinceri, la tua opinione su quello che dice Pira quando dice ragazzi non bisogna sognare. È un passaggio che sembra semplice, però è profondo, molto profondo. Assolutamente. I ragazzi hanno bisogno di sognare il loro futuro e hanno bisogno di vedere questa globalizzazione come qualcosa di positivo. Avevano sempre visto il mondo globale come la possibilità di viaggiare, di essere cittadini del mondo. Oggi cosa vedono della globalizzazione? Che un virus arriva dalla Cina o che una guerra che sembra distante geograficamente invece ha già cominciato a portare le prime conseguenze all'interno delle famiglie. Famiglie che arrivavano già da un disagio economico, perché la pandemia è inciso anche nella piccola economia quotidiana delle famiglie. Pare che ci siano le premesse, perché questo disagio ora si è accentuato anche da questo conflitto. Ragazzi che pensavano di fare gli studi all'estero, adesso vedono questa incertezza, però nonostante questo io sono d'accordo col professore Pira, dobbiamo rassicurarli, dobbiamo anche interpretare un ruolo di fronte a loro. Se questo non è sempre possibile all'interno delle famiglie dove ci sono i problemi, questo almeno a scuola va fatto. Il ruolo del docente è questo, anche quello di istrionicamente dargli quella leggerezza che invece manca loro in questo momento. Io ho visto cadere il velo della leggerezza dagli occhi dei ragazzi, e invece voglio assolutamente che loro si sentano rassicurati da noi, docenti, con i quali parlano. E diceva anche un'altra cosa vera il professore Pira, i ragazzi sono riflessivi, non è vero che sono superficiali, non è vero che si accontentano solo delle informazioni dei social. L'altro giorno è venuto nel nostro istituto un analista, il dottore Franco Iac, ha parlato di questo conflitto. I ragazzi hanno proprio chiesto come fare a selezionare le informazioni, dove poter trovare le vere informazioni, come poter filtrare, è vero che sono anche scettici nei confronti dei media. Forse perché anche durante questi due anni le informazioni sono state un po' confuse, e quindi hanno un po' perso i punti di riferimento. I virologi praticamente facevano a gara a chi la sfarava più grossa inizialmente, poi per fortuna abbiamo potuto selezionare anche i virologi più credibili rispetto a... E anche questo li ha disorientati di fronte a quei punti di riferimento che dovrebbero avere, quelle professionalità che non dovrebbero deludere i ragazzi, da cui dovrebbero avere risposte certe, invece sono mancate in questo periodo. Allora loro si interrogano molto su questa situazione, e li sollecitiamo certamente a vivere il momento, a attenzionare la questione, anzi li abbiamo pure messi un po' in allerta, perché le scuole stesse sono in allerta, potrebbero arrivare dei profughi di guerra, potremmo doverli accogliere, e quindi come comunità educante ed accogliente già diciamo che abbiamo discusso di questa eventualità, e cerchiamo insomma però di preservare i loro sogni, di preservare le loro speranze, e di proteggerli anche in questo senso, ne hanno diritto. Cristina, qual è la tua opinione? Per me bisogna vedere l'occasione, ed è quello che dico agli alunni, noi abbiamo dato per scontato tutto, la pace, il benessere, la nostra vita, le nostre sicurezze, ma non è così, per chi ha genitori grandi ce lo raccontavano, chi ha vissuto la guerra ci raccontava, aveva anche questo senso di avere sempre, non so, dei soldi da parte, qualcosa per le emergenze, io ricordo che mio padre diceva, ma se succede questo, da bambina noi non lo capivamo, questo se succede, perché non l'abbiamo mai vissuto, noi non abbiamo mai vissuto momenti di crisi, sì c'è stata la guerra fredda, ma come ora la pandemia, la guerra così vicina, così anche questo rischio della terza guerra mondiale, perché Putin sembra... Anche le tensioni, tutto sommato anche le tensioni nel Medio Oriente le abbiamo vissute come qualcosa di distante, sì non si è mai parlato di terza guerra mondiale, con timori di eventuali attentati terroristici, che sono una questione al centro dell'attenzione mondiale, però questa volta la stiamo vivendo proprio perché siamo nel centro dell'Europa, questa volta si parla di terza guerra mondiale, questa volta si parla di terza guerra mondiale, quindi si parla di, ha minacciato anche la bomba atomica, quindi inevitabilmente i ragazzi ne subiscono. Inevitabilmente sentire queste cose ci fa tremare, quindi però ci deve fare anche capire come abbiamo conquistato tutto quello che abbiamo, l'importanza di quello che abbiamo, non darlo per scontato. Spesso noi a scuola, anche con i bambini piccoli, perché ce lo dice il Ministero da sempre, facciamo la giornata della pace, la giornata dei diritti del bambino, la giornata dell'Ono, insomma tutte le varie giornate, ma non si capisce veramente la sofferenza della conquista, quello che abbiamo avuto, tutti i diritti che abbiamo li abbiamo conquistati con le guerre, con la sofferenza. Però se i bambini, poco fa parlavamo dei bambini che più facilmente rispettano le regole, perché i bambini non hanno molte sovrastrutture, poi col passare degli anni evidentemente anche un certo modo di pensare da parte degli adulti incide nei loro confronti e quindi li porta a fare ragionamenti un po' diversi. I bambini hanno il piacere di compiacere l'insegnante, la mamma, il papà, c'è ancora questa fase, alla scuola primaria i bambini fino ai dieci anni, hanno questo piacere. Noi lo vediamo il cambiamento da mamme, quando il bambino ti supera i dieci anni, quel desiderio di compiacerti non c'è più, c'è la fase della ribellione, anzi ti si mettono quasi contro. Invece nella fascia della scuola primaria c'è ancora il desiderio di compiacere l'insegnante, cioè si fa di tutto per rispettare le regole, per fare bene e tutto quanto. Però, ripeto, ritornando al discorso di prima, al discorso che avevi fatto poco fa, per noi, per tutto il mondo, secondo me, è un'occasione. Un'occasione è anche una svolta, cioè un punto di svolta. Possiamo farlo diventare... Per migliorare. Tu dici possiamo farlo diventare un fatto positivo, la crisi internazionale. Noi abbiamo alternativa. Questa è una chiave di lettura. Penso che dobbiamo. È una chiave di lettura interessante, sicuramente. Sfruttiamo questa situazione negativa per cercare di trattare nel mezzo. Ma noi questo insegniamo ai bambini, a sfruttare tutto quello che abbiamo, anche le differenze, per migliorare, per raggiungere il massimo degli obiettivi. E noi da adulti abbiamo questo dovere. Abbiamo il dovere di trasformare il momento di sofferenza, il momento che stiamo vivendo, lo direi anche a chi ci governa, per dare una svolta al nostro mondo, al nostro pianeta, insomma, per migliorare. Non possiamo lasciarci andare. Non possiamo fare vincere il male. Assolutamente. Maria Grazia, i ragazzi sono preoccupati, per esempio, del Covid. Ho notato che alcuni ragazzi non sono preoccupati di essere positivi al Covid, ma sono preoccupati che l'essere positivi si trasformi in un impedimento per poter socializzare, per poter stare insieme agli altri. Ho notato questa cosa. C'è l'aspetto sanitario, diciamo così, che comunque ha la sua importanza. Il loro passa in secondo piano, perché dice, ma io mi perdo di stare con gli amici, di partecipare ad una festa, di andare a ballare, faccio degli esempi banali, però avete avvertito questo tipo di fenomeno in questo momento. C'è proprio la paura di rimanere fuori dal mondo del divertimento, dalla possibilità di socializzare. Sì, allora, intanto c'è la paura, non tanto di contagiare se stessi, ma di contagiare i nonni, di contagiare le persone fragili. Adesso c'è più consapevolezza su questo, però. Inizialmente non c'era molta consapevolezza su questo. Adesso c'è. Dal mio punto di vista, non lo so, forse chi manifesta sintomi psicologici è una persona talmente sensibile che proprio assume su di sé anche questo tipo di male. Quindi la paura di avere il senso di colpa, la paura di far del male agli altri, più della paura di farsi del male, prendendo il Covid. ma soprattutto, diciamo, è la difficoltà a pensare il futuro, questo. Cioè, sostanzialmente, alcuni mi dicono, Teresa, io ho 18 anni, quando ho iniziato il Covid ne avevo 16, alcune cose non le ho fatte, alcuni non hanno preso, per esempio, il patentino, perché tanto c'era il Covid, adesso si ritrovano a 16 anni che non hanno il patentino. Proprio l'altro giorno una ragazza mi raccontava questo, ma ormai che faccio? E lo viveva come un disagio? Adesso io non ce l'ho, perché comunque c'era la pandemia, non l'ho preso, adesso ho 16 anni, ma mi stufa farmi accompagnare mia madre, perché deve sapere dove vado, è una cosa che mi scoccia. Ecco, per esempio, questo è un esempio. Ma comunque, se noi pensiamo, i due anni di vita, per noi hanno un valore, cioè, se io ho 50 anni, io ne ho 52, diciamo, nella fase in cui sono, però per un 14enne, passare questi due anni di vita così vuoti. Quindi quando un ragazzo dice ho perso i due anni dei migliori della mia vita, ha ragione. Sì, e poi quello che noto è gli universitari che sono entrati con la pandemia, sono al terzo anno, adesso, e non hanno mai frequentato in maniera costante. Ancora ora c'è la didattica a distanza, perché si può scegliere, quindi se vanno in facoltà trovano poche persone, i tirocini sono stati fatti online. E sappiamo cosa significa accedere all'università, è un passaggio della vita fondamentale per un ragazzo. Alcuni non hanno più affittato la casa, per esempio, perché c'era la didattica a distanza, cioè hanno perso un'occasione, delle opportunità. Questa è la situazione, ovviamente. Però è anche vero quello che dice la Cristina, cioè noi a questo punto, siccome è stato un trauma collettivo, parliamoci chiaro, dobbiamo assumere un atteggiamento di resilienza. Adesso anche il governo ne parla, piano per la resilienza. Perché la resilienza cos'è? È la capacità di affrontare un evento traumatico trasformando questo evento in qualcosa che possa essere un'opportunità. Non è facile. Per fare questo, ovviamente, occorrono risorse. per fare questo, occorre un adulto che faccia quello sforzo anche di mediazione, perché il ragazzo da solo non ce la può fare. E ovviamente, se non li aiutiamo noi, se non li aiuta, ci vogliono delle opportunità anche, da parte del, sicuramente del singolo, che può essere il genitore, che può essere il ragazzo stesso, ma soprattutto da parte dell'ambiente. Perché pensiamo anche che molte cose, i ragazzi non li hanno potuti fare più, per esempio, lo sport, lo sport, anche musica, che sono tutti quei presidi che secondo me aiutano e che secondo me sono appunto quelle opportunità di entrare in relazione con gli altri, di fare educazione emozionale, i sentimenti, che poi portano a una regolazione emotiva sana, che poi portano a poter esprimere anche le emozioni in maniera più sana. Perché se pensiamo alla rabbia, la rabbia non è un'emozione negativa, la rabbia è un'emozione, come tutte le emozioni sono utili, perché ci servono a difenderci, però se non viene espressa nella maniera più giusta e più funzionale, può diventare esplosiva e quindi ecco, tutto quello che può essere l'aggressività. sta faticando così tanto ad accettare l'idea di dover convivere con questa situazione di emergenza sanitaria, no? Perché per esempio se usciamo col motore dobbiamo mettere il casco, se mettiamo la cintura di sicurezza, la mascherina, evidentemente dobbiamo convivere con questa situazione. Perché fatichiamo ad accettare questa realtà? Si fatica ad accettare questa realtà? di dover fare, di dover avere delle precauzioni perché c'è questa situazione, insomma andare avanti con questo. Perché comunque i messaggi non sono molto chiari. E questo è pure vero. Cioè se io so che devo mettere il casco perché io so che è una regola e va bene e poi ho questa paura, E però se ti ricordi quando fu introdotto l'obbligo del casco inizialmente non fu facile, poi però col tempo adesso è la cosa più normale del mondo per fortuna e si sono anche risparmiate tante vite nel senso che però adesso l'uso della mascherina. L'uso della mascherina insomma adesso si parla di togliere la mascherina e poi d'altra parte si dice no, è sbagliato togliere la mascherina. Cioè alla fine diciamo che ci sono dei messaggi un po' poco chiari, la poca chiarezza porta la persona intanto a non ben interpretare e poi evidentemente a fare come meglio crede. Quindi sostanzialmente questo è fondamentale. La chiarezza ma questo vale per tutte le regole. se c'è la regola di mettere la cintura però ci sono dei luoghi dove la cintura nelle macchine non si mette chiaramente. Cioè questo poi il rispetto poi delle regole è un altro poi animale. Claudio, anche sul rispetto delle regole le tue opinioni vorrei conoscere. rispetto delle regole i ragazzi ce la mettono tutta non è sempre semplice perché sono stanchi e perché continuano a dire ma nelle altre parti del mondo la mascherina non si usa più noi invece ci hanno ingambiato dietro questo presidio allora manca che ne so a scuola il viaggio di istruzione piuttosto che l'uscita didattica l'occasione insomma per poter essere tutte cose che sono per il momento archiviate hanno perso tanto sì quando dicono abbiamo perso due anni di vita degli anni migliori della loro vita noi li dobbiamo comprendere perché è la verità e sì anche trovo assurdo che l'università ancora faccia fatica a riprendere i ritmi normali perché insomma tutto è ripartito tutti abbiamo ricominciato rischiando solo da poco l'università in presenza ha ricominciato e quindi questi ragazzi si ma tu cosa pensavi quando il governo ha insistito affinché la scuola ritornasse in presenza c'era si era aperto un dibattito qualcuno diceva allora sinceramente con le dovute paure perché le avevo io ero assolutamente d'accordo e questa paura che ho provato annuisce anche Cristina quindi evidentemente anche lei la pensa così sì ne avevamo anche parlato perché su Facebook si era aperto un dibattito su questo scusa sinceramente la paura mi è passata nell'istante stesso in cui ho provato la gioia di rimettere i piedi a scuola e di vedere finalmente i ragazzi in volto seppure solo perché se il messaggio giusto era attenzione non è che noi facciamo che a scuola si fa la dad e poi fuori dalla scuola ognuno fa come gli pare quindi cosa abbiamo concluso alla fine questo messaggio che però ha ragione Maria Grazia non erano in grado anche i governanti di far passare questo tipo di messaggio dicevano soltanto si fa così punto e allora qualcuno non capiva poi però i fatti hanno dimostrato che è stato giusto però se mi posso permettere anche sono state prese decisioni sulla nostra pelle assolutamente da parte di chi probabilmente a scuola non ci è mai entrato perché io mi ricordo la famosa soluzione della scuola al 50% era veramente difficilissimo parlare due linguaggi diversi a chi era in presenza e a chi era a casa cioè a questo punto meglio tutti a distanza anche perché oramai avevamo quasi imparato a leggere gli occhi dei ragazzi anche attraverso lo schermo con la pratica a coinvolgere quelli più introversi quelli più timidi i furbetti perché ci sono anche i furbetti della DAD ma 50 e 50 diciamo che si collegano e poi si mettono a dormire questo avrebbero voluto avrebbero voluto certo eravamo sempre lì pronti a minacciare l'assenza eventualmente perché bisogna anche insomma tenere un po' il polso però come si fa a proporre una scuola dove tu parli a metà classe in presenza che ti segue ti comprende ti capisce tu è che è stato un momento in cui c'è stato un disorientamento generale in cui non si capiva più qual era la cosa giusta da fare ma qui vi ripropongo e ci avviamo alla conclusione vi ripropongo una considerazione sul concetto di prima e dopo che a me piace sempre molto perché purtroppo è così le cose della vita in generale per tutti per tutto il mondo c'è il prima e il dopo ma poi c'è il prima e il dopo di ciascuno di noi ognuno di noi ha una catalogazione della propria vita dei propri fatti che lo hanno riguardato anche per esempio parlando soltanto di un anno particolare diciamo ah quell'anno mi è successa questa cosa quindi tu già fai una distinzione tra quello che c'era prima e quello che c'era dopo ho capito che le cose per esempio dall'osservatorio di Claudia ha notato gli occhi spenti e l'isolamento ecco ma a parte l'atteggiamento che è quello assolutamente non in tutti per fortuna ci mancherebbe altro ma a parte l'atteggiamento che è naturalmente assolutamente propositivo qual è la sensazione di Claudia Brunetta? Cosa ci riserva questo futuro? Cosa riserva il futuro ai ragazzi? E allora io mi auguro che loro abbiano questa famosa capacità di resilienza e ci stupiscano e confido in loro confido nella loro giovane età nei sogni nelle speranze che loro comunque coltivano e nella capacità insomma che hanno di stupirci e mi auguro che che il mondo li curi pensi a loro che il mondo politico sia propositivo nei loro confronti sappia proporre anche iniziative valide e soprattutto sappia dare esempi positivi ecco e allora solo così credo possa migliorare il loro futuro mondo politico è interessante per chi l'ha detto che i ragazzi per forza devono andarsene se vogliono riuscire a fare qualcosa nella loro vita perché devono lasciare le loro radici per forza c'è chi lo fa perché ha voglia di farlo c'è chi lo fa però purtroppo perché altrimenti non ha alternative allora ecco perché l'appello al mondo politico io lo condivido e lo voglio calare anche nelle nostre realtà perché questa cosa che sia così scontato che noi dobbiamo per forza lasciare andare i nostri ragazzi perché altrimenti qui non hanno niente da fare è un ragionamento che deve capisco che non è l'argomento della puntata però è uno dei temi che ci deve indurre a riflettere anche per il futuro e noi ne parliamo spesso di questo certo questo è importante stimoliamo a rimanere qui a lavorare nel loro contesto a cercare di farsi un futuro nel loro contesto poi è chiaro c'è chi dice io voglio fare un'altra vita voglio andarmene allora quella è una scelta come dicevo prima se fosse una libera scelta sempre sarebbe perfetto ma purtroppo non è una libera scelta è una scelta obbligata perché altrimenti qui non hanno ma non qui a Sciacca ma qui si apre un capitolo enorme qui si apre un capitolo enorme allora sul primo e il dopo Cristina e poi così io di mio sono ottimista e poi la storia insegna che dopo una distruzione poi c'è sempre la ricostruzione la nostra società l'Italia è cambiata dopo la seconda guerra mondiale la nostra costituzione viene dopo il 1945 quindi subito dopo ecco la terribile seconda guerra mondiale quello che siamo noi oggi lo dobbiamo a tutto quello che è avvenuto prima e quindi anche ora questi eventi che ci hanno stravolto che hanno cambiato le nostre vite e che comunque noi possiamo ritenerci sempre fortunati giusto? viviamo sempre in un contesto fortunato è democratico anche fammelo dire questo perché c'è chi straparla di dittature ma come si fa a parlare di dittature? noi viviamo nel benessere infatti mi pare che stanno dimostrando cosa siano le dittature esatto noi viviamo nel benessere e quindi nonostante la pandemia nonostante la guerra che incombe nonostante le paure dobbiamo intanto dire grazie per quello che abbiamo e poi ripeto trovare spunto in questi momenti di difficoltà per cambiare in meglio tutte le difficoltà ci spingono a cambiare e noi dobbiamo farlo assolutamente e dobbiamo sostenere i nostri bambini essere il punto di riferimento positivo e come dice il professor Lapira ottimisti per dargli i sogni le speranze in un futuro perché quello è proprio lo spirito dell'umanità pensare al futuro a migliorare e rivedere certe opinioni ripeto la democrazia ha tanti problemi ma un modello migliore di questo non esiste esatto dottoressa concludiamo concludiamo con il concetto del primo e il dopo che è quello che un po' caratterizza voglio dire il bilancio finale della nostra conversazione se mi posso permettere allora io penso che la crisi pandemica o comunque la complessità di questo periodo farà uno spartiacque appunto tra un primo e un dopo perché noi nel tempo tra un po' di anni speriamo insomma di avere superato tutto e diremo questo succedeva prima della pandemia e questo succede adesso cioè questo è successo dopo la pandemia dopo che c'è stato il conflitto eccetera quindi sicuramente ci sarà un cambiamento allora i migliori cambiamenti nascono dopo le crisi la crisi è un'occasione però bisogna lavorarci perché se io sono in crisi io devo accedere alla crisi per poter effettuare una rinegoziazione anche del mio modo di essere parliamo del singolo come quando arriva la crisi in una coppia se una coppia è in crisi può eludere la crisi quindi continuare oppure accedere alla crisi è vivere sempre con questo malessere di essere sempre in crisi oppure accedervi e rinegoziare cioè fare dei cambiamenti e questo dipende dalla volontà del singolo ognuno per la sua parte e dalla rinegoziazione anche nei modi di entrare in relazione credo che questo non possa essere lasciato al caso sì è vero che ogni rivoluzione porta un disordine e che da un disordine può nascere un nuovo ordine è una legge epistemologica però è anche vero che noi dobbiamo intervenire cioè non possiamo pensare che da soli o in maniera tutta autonoma le situazioni possa evolvere verso qualcosa di positivo noi dobbiamo fare qualcosa e secondo me questa è un'occasione per fare qualcosa per esempio per lavorare di più rendere più protagonisti giovani perché loro non si sentono molto responsabilizzati io credo che questa sia la chiave dare più responsabilità più visibilità visibilità dandogli delle opportunità nel positivo e lì si inserisce anche il discorso sulla meritocrazia oggi ci sarebbero tanti spunti per fare tante altre trasmissioni sì assolutamente la meritocrazia ragazzi talvolta si rendono conto che le cose non vanno per come dovrebbero allora se già loro hanno questo tipo di impostazione di approccio allora poi dicono vabbè allora ho capito devo fare come fanno tutti no? e questo poi è il rischio che si corre oltretutto se io sono gratificato tendo a fare di nuovo quella stessa cosa se non sono gratificato quel comportamento si estingue questa è una legge di natura per cui bisognerebbe gratificarli quando fanno delle belle cose invece dei giovani se ne parla solo quando succedono cose negative questo è un must diciamo succede continuamente è anche una responsabilità della mia categoria professionale questa è una responsabilità ovviamente anche dei giornalisti sì sì assolutamente sì per fortuna non tutti sono uguali anche in questo però assolutamente io credo che appunto per dire per rispondere alla tua domanda certo che c'è una differenza tra un primo e un dopo però si spera che su questa differenza tutti quanti insieme facciamo unione e in sinergia riusciamo a sia per la parte del singolo ma tutti insieme a portare la direzione cambiare queste vele diciamo attraverso questo vento prenderlo in maniera diversa siamo d'accordo tutti che dai bambini agli adolescenti loro ci insegnano tantissime cose ci danno degli spunti di riflessione che noi possibilmente non avevamo pensato e ci rendiamo conto che hanno un approccio propositivo quando ce l'hanno che è un insegnamento ogni giorno sicuramente sono una ricchezza sono una grande ricchezza noi auguriamo ai nostri ragazzi di farcela noi faremo del nostro meglio ma sono convinto che poi alla fine saranno loro a spingere noi io intanto vi ringrazio ringrazio Maria Grazia Buonsignore Cristina Venezia e Claudia Brunetta abbiamo cominciato dandoci del lei finiamo dandoci del tu perché è normale che sia così e fatemi ringraziare il collega professore di sociologia all'Università di Messina Francesco Pira grazie ancora appuntamento alla prossima settimana grazie a tutti